Carte alla mano, foto e una lista di dubbi e incongruenze riferite all'utilizzo di un'auto blu con lampeggiante paletta da parte del presidente d'Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Il Movimento 5 Stelle apre un nuovo caso. Questi dispositivi possono essere utilizzati solo da personale conducente di alte personalità di governo nazionale e dell'Unione Europea debitamente autorizzati dal prefetto per motivi di sicurezza. La prima cosa che noi chiediamo e vogliamo che ci esibiscano il decreto del Ministero dell'Interno e quindi di Alfano che individua come altra personalità e d'alta personalità a rischio il nostro presidente della Regione. Vogliamo vedere, pretendiamo di vedere il decreto del prefetto motivato e poi vorremmo vedere la richiesta avanzata dal direttore regionale competente perché c'è bisogno di una richiesta specifica che motiva le esigenze di sicurezza. Mancanza di motivazioni, secondo i grillini, motivazioni che richiedono l'intervento di diverse cariche pubbliche. Il ministro degli interni, l'ente regione, il prefetto di competenza e soprattutto di un acclarato rischio per la propria incolumità. Io ho seri dubbi che vi siano autorizzazioni, decreti ministeriali, decreti prefettizi e richiesta da parte del direttore regionale. Se dovessero mancare queste autorizzazioni ci troveremmo di fronte a un grave abuso. Precedenti d'Abruzzo c'erano stati da un lato per il vicepresidente del consiglio regionale De Matteis, dall'altra dell'ex sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia, infine l'ex governatore d'Abruzzo Gianni Chiodi. Tutto documentato da Carteggi. Ci sono dei documenti, ci sono richieste specifiche da parte dell'amministrazione di appartenenza che motivano le richieste. C'erano state richieste per esposizione a minacce, a pericolo sia del vicepresidente del consiglio regionale che del sindaco di Pescara. Il prefetto per un tempo determinato e solo ed esclusivamente per quel tempo determinato conferì la qualifica di agente di pubblica sicurezza ai conducenti di questi veicoli.